Ogni giorno seguiamo grandi campioni, ma oggi ci prendiamo cura dei piccoli guerrieri. Il 29 giugno partecipa a 300 per la TIN, una maratona di spinning promossa dall'Associazione per l'aiuto al neonato, pedalare per la vita e Perform Sport Medical Center. Insieme, a fianco dei neonati della terapia intensiva neonatale dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Pedaliamo oggi per il loro domani.